...soltantami tre, Marini Lazio, Fiorucci Umbria e Luciano Vecchelica, Signore, Tornese a centrale, Ferraro Di Baccia e Peñu Alessia, ginnastica triestina, prima Lorenzoni Denisa, ginnastica triestina. Vincenzi Salvi Capato, soltantami cinque, finale del secondo posto, Zendini Serena, Calabria, Cocco, Vardini, Toscana, Vali, Ginnastica, Gatti, 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 G l'amica 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 tra sei minuti sapatini rossi tra sei minuti sapatini rossi a dieci minuti si svolgeranno le finali l'amica 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 attenta ma che c***o? ogni volta l'amica 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 stai su, stai su Ali prova a salire tu sali tu per prima sali tu per prima dai convinta 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 grazie